Musica E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento a UnGameZane Siamo qui al 34esimo appuntamento qui con Minecraft Ita Obiettivi Come al solito i vostri consigli sono stati tantissimi Io ho deciso di farvi vedere da oggi tutto ciò che faccio O meglio avete presente che sto costruendo il magazzino sotterraneo Io voglio mostrarvi tutti i passaggi fino a quando non lo finirò Ovviamente i vostri obiettivi li terrò in considerazione ovviamente Se ci sono cose rapide e veloce da fare le faccio subito Se ci sono ovviamente cose lunghe le rimanderemo ovviamente alla prossima puntata o fino a quando non finirò Io come sempre ragazzi vi consiglio di scrivere qua sotto gli obiettivi per la prossima settimana Anche perché una volta finito li leggerò tutti dagli scorsi video Dai precedenti appunto video Ma io ti riede iniziare subito 3, 2, 1 Allora il primo commento di oggi me lo fa Fabrizio e mi scrive Mirko secondo me il blocco di quarzo è meno raro del ferro Ti consiglio di metterlo o prima del ferro o dopo il ferro Quindi prima dell'oro Allora ragazzi effettivamente è vero perché se noi andiamo nel nether è molto più facile trovare il quarzo Stavo facendo una cosa assurda e aspetta un attimo mi serve un pezzettino di pietra Ok rattoppato Allora dicevo effettivamente dobbiamo metterle in ordine Paura di spaccare quello che c'è sotto In ordine di ciò che viene trovato Allora il quarzo effettivamente lo possiamo trovare con maggiore facilità Poi ovviamente l'oro Il ferro E la redstone La pislazzuli E questo qui effettivamente si trova con molta più difficoltà uno smeraldo che ovviamente un diamante E infatti Lorenzo me lo scrive scrivendomi forse lo smeraldo è più raro del diamante Poi quando trovi un blocco di diamante ce ne sono altri attorno al blocco Mentre smeraldi non credo Ed effettivamente hai ragione infatti questa è l'ultima disposizione finale di ciò che sono tutti i minerali rari di Minecraft ragazzi Magari consigliatemi come abbellire questa stanza per mettere qualcosa in particolare non so Ditemi voi come migliorarlo ovviamente qui sotto nei commenti Ah ragazzi ovviamente molti di voi mi avete detto Ah Mirko però metti i commenti di qualcun altro prima dei nostri Io ragazzi metto i commenti leggo i commenti in ordine di scrittura Quindi se una persona mi scrive il commento uguale al vostro Simile al vostro prima di voi Io lo leggo ovviamente per questo motivo Quindi non vi seccate se ovviamente il vostro commento non c'è Ma purtroppo il primo che leggo è il primo che metto A maggior ragione impegnatevi a scrivermi tanti commenti così leggo il vostro no Allora quindi scendiamo dalla nostra amata discesa che adesso è diventato qualcosa di assurdo Allora dobbiamo cominciare a sistemare un po' di roba Allora dobbiamo continuare a fare le nostre ceste Quindi 1 e 2, 1 e 2 Ovviamente dobbiamo mettere tutte le torce qui Qui non ci va perché c'è questo tizio Ma io farei così Mettiamo solo questa all'angolino così Perfetto così si amalgama un po' Questa vabbè qui la possiamo mettere No qui non la possiamo mettere Ok adesso mi mancano le chest e anche gli slab di legno Si allora slab di legno e chest le devo fare Chest le devo fare Che cazzo era un enderman? E il legno l'ho già messo tutto quanto qui sotto Quindi me ne serve un bel po' per fare le chest Quindi anzi facciamo una cosa Siccome mi scazzo a salire sopra Facciamo che trasformo e faccio un crafting Deve mettere anche qui sotto Tanto prima o poi ci servirà Non è che non ci servirà E lo metto Lo metto qua Tutto questo legno lo trasformiamo in chest Ne abbiamo fatte 8 Ma ne dobbiamo fare ancora E ne facciamo 13 Ok così il resto lo trasformiamo in slab Che tanto ci servono Allora perfetto Uno e due E adesso dobbiamo mettere gli slab Come appunto avevamo fatto La scorsa volta Ovvero così Allora quindi Qui dovevamo metterci gli sticks Si che non ho Qui dobbiamo metterci altre cose Allora qui mettiamo gli sticks Qui No aspetta ok Il legno normale Che al momento forse non ho No che cacchio sto facendo No ce l'ho forse Si ok un cubetto ce l'ho E lo metto qua Perfetto Quindi qui il legno normale Qui gli sticks Qui potremmo mettere gli slab Perché no? E qui tutto il resto che non ci serve Ad esempio Ehm Gli mettiamo un letto Ok E qui dentro gli mettiamo i cartelli Le botole Cioè tutte le cose ovviamente che non ci servono In questo caso Che ne so le cornice per gli oggetti Tutto ciò che si fa con il legno Ma che al momento non ci interessa avere Ok allora quindi Cominciamo a travasare il tutto Io questi materiali me li prendo E li comincio a spostare Poso intanto quello che non mi serve Questo sarà spostare tutto questo Sarà un'agonia Alla fine questi basta che li butti nelle ceste e via Invece in quel modo ci vuole un po' più tempo Ma vabbè Cioè effettivamente ragazzi così c'è un po' più di ordine E anche quando noi andiamo a cercare Le robe Ci era anche meglio no? Cioè direi di sì Allora da questo lato Cominciamo a mettere La sabbia La sabbia Allora aspetta Questo no Perché queste sono elaborate Dalla sabbia Quindi questo no Qui mettiamoci solo la sabbia Perfetto Mentre da questo lato Noi andremo a mettere Diverse cose Ad esempio Qui ci mettiamo il granito E ci piazziamo ovviamente tutto il granito dentro Qui ci mettiamo la ghiaia E ci piazziamo tutta la ghiaia dentro Vediamo se il vetro lo metto qui Vabbè ok Mettiamo qui il vetro E lo piazziamo tutto qui dentro Vabbè ragazzi ci vediamo appena Ho finito un po' di sistemare le ceste Perché ci vorrà abbastanza tempo Va quanta terra che ho Sapete qual è la problematica? Cioè le metto nella stessa cesta Gli scalini No No non li posso mettere nella stessa cesta Gli scalini e le robe varie Io le devo fare per forza da questo lato Eh sì Ok direi che sotto la pioggia È arrivato il momento di disboscare La foresta amazonica Questi alberelli piantati qui Tempo fa Sono fatti al caso mio Vieni qua Veniamo giù dai monti E dai nostri prati in fior Voliamo con amore Gran serenità Che bella novità Disboscare Che bontà Che cazzo dico Ok direi che questo legno può bastare E ne abbiamo preso abbastanza Abbiamo disboscato mezza Popolazione mondiale degli alberi Posiamo questo E riscendiamo Ok mi sa che dovremmo cominciare a spaccare un po' di roba Quindi questo lo spacco e mi prendo tutto Qui dentro Che cacchio Di discesa e salita rapida Che però mi danno problemi Che bello Ok ragazzi ho un'idea Ho un'idea Allora possiamo fare a piani Mi sono stragiato un attimo Perché È un po' che registro Allora possiamo fare così Questo piano ad esempio lo facciamo Tutto materiali Un piano più sotto lo facciamo Ad esempio Che ne so Tutte le combinazioni Che si possono fare con Gli oggetti Che ne so Le scale Gli slab Eccetera Un altro piano lo facciamo col cibo Un altro piano lo facciamo col legno Si potrebbe anche fare Il problema è che ci metterò 68 milioni di anni Però va bene È un progetto che potrebbe andare E a me piacerebbe molto farlo Anzi Lo farò Lo farò sicuramente Ma Molte delle cose che farò Saranno off camera ragazzi Perché Ovviamente non possiamo Cioè non posso farvi vedere tutto Perché Ci metto I secoli Tipo ad esempio Una cesta solo di torcia Una cesta solo di quella Una cesta solo di quella Cioè È lungo da fare Ragazzi So che è lungo Però Mi piacerebbe farlo Ad esempio Forse Lo preferirei più largo Il magazzino Nel senso Molto più largo Così ad esempio Le cose del legno Io le metto tutte Cioè Tutte un altro In escalation Sì 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 ok Mi sa che farò così Ok allora facciamo una cosa Visto che devo allargare La baracca Facciamo così Ok Ne ho Ho sparato Mille cesta a terra Cominciamo a fare una cosa Allora Leviamo tutto Leviamo tutto Cioè Quanto cazzo di tempo Sto perdendo Faccio le cose Io sono così ragazzi Faccio le cose E poi le Spacco per rifarle Per rifarle di nuovo Io Purtroppo sono così Se una cosa Non mi piace O mi piace In parte Oppure Mentre le costruisco Mi fanno cambiare idea Io le modifico Ragazzi Credo che sia meglio così Perché Sei più sicuro Che una cosa ti piace Ovviamente raga Le sto mettendo tutte a cazzo Poi Le sistemerò un giorno Al momento No il crafting Me lo porto Al momento non è La cosa più importante Devo allargare Sta cacchio di cosa Non so quanto verrà grande Però La devo Assolutamente Allargare Cioè Meglio In larghezza Che in altezza Cioè nel senso Mi secco a scendere Tanti viani È meglio forse Farne Farne uno o due Molto più grossi Tipo In larghezza E ti rimane Cioè vai Meno sbattimento di coglione No perché devi scendere Devi fare Devi dire Ok allora Cominciamo ad allargare Allora E facciamo Uno due tre Quattro e cinque Uno due tre Quattro e cinque Ok E cinque da questo lato Ok ma tanto Visto che sto spaccando tutto Mi servirebbe Del carbone Che non ho messo qui Ma ho Sopra Le fornace Ho preso pure E adesso Le piazzo qui Che è lungo Abbattere tutti Sti cacchio di muri Ho fatto solo il lato destro Manca anche quello sinistro Che bello Ok Primo lato Fatto Adesso Ok mi manca L'altro lato Ok secondo lato allargato Devo cambiare la pavimentazione Devo fare ovviamente Tutta pietra Ok allargato Allora Visto che l'abbiamo allargato In lunghezza Io l'allargherei Anche in Larghezza Cioè l'abbiamo allargato In larghezza Lo allungheremo anche In lunghezza Allora Da questo lato Però non possiamo Dobbiamo per forza Farlo solamente Da questo lato E visto che sono 5 di qua E 5 di qua Dobbiamo farlo da 10 Ragazzi Meno male Perché sto cuocendo Tutta questa pietra Perché Me ne servirà Un botto Veramente Che bene Nel frattempo Trovo il ferro Oggi scavando Con i piani Trovo Che ne so Diamanti Cose varie Carbone pure Va bene Va bene Oggi è la giornata Sistema Il tuo magazzino E trova Altra roba Per il tuo magazzino Ma quanto cazzo Ce n'è Carbone Ragazzi Mi sono dimenticato Di dirvi Che al cinquantesimo episodio Rilascerò Nuovamente La mappa Credo di rilasciarla Ogni 25 episodi Perché Rilasciarla Ogni settimana A parte È problematico Per me Perché mi toglie Abbastanza tempo Ma a parte questo Non ci sono Praticamente Novità sostanziali Quindi Ogni 25 episodi Ci saranno Delle strutture E delle cose nuove Quindi Spero vi piaccia Come idea Anzi Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Se volete Appunto La mia mappa Al cinquantesimo episodio Se non la volete Non ve la do E ovviamente Ragazzi Qui Dovremmo iniziare Il tutto Allora Una volta Scesi Noi Dobbiamo Cioè Scendiamo da qua Giusto Perfetto Io voglio trovare Alla mia destra Tutto ciò che riguarda Il legno Ok Ovviamente Dobbiamo sistemare Perché il dentro Lo voglio tutto in pietra E quindi Tutta sta roba Se ne deve andare Deve trasformarsi Praticamente Così Aspetta che manca Ok Perfetto Così Sì 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 Come prima ovviamente Dobbiamo mettere Tutte le cacchio Di torce Ok Questa la possiamo Ingrave La mettiamo qua E vabbè ragazzi Devo fare Praticamente Un bel po' Di lavoro E mi sa Che lo Completerò Nel prossimo episodio Va bene ragazzi Come al solito Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto Questo nuovo video Vi ricordo Come sempre Di commentare Con gli obiettivi Per la prossima settimana Ovviamente Arriviamo a 100 mi piace Come al solito Iscrivetevi Commentare Ci vediamo Alla prossima Appuntamento Sempre qui Con Zane Ciao Ciao